Signori, bentornati in un nuovo video flash. Come c'era da aspettarsi, il Mondiale ha visto all'apice della catena alimentare il solito sagazuki che ha occupato la top 4, ripristinando l'ordine assoluto e la giustizia suprema in ogni angolo dei mari. Complimenti quindi a Guang Rong, laureatosi primo campione del mondo del TCG di One Piece e a tutti coloro che hanno reso un evento così importante, dinamico e avvincente. Ora però arrivano i però, perché se da una parte il grande ammiraglio ha fatto calare il pugno di magma sulla tier consolidando il suo primato, dall'altra i membri della Bandai hanno deciso di promuovere una nuova Banned List che vedrà coinvolto proprio Saka, ed anche il suo pugno. Infatti a partire dal primo aprile, e no, non si tratta di uno scherzo, verranno messi al bando sia l'event Greater Option che ha rappresentato una carta staple, ovvero fondamentale per le dinamiche di pescata diminuzione costo del deck, rendendolo molto più veloce e letale soprattutto in combinazione con il leader, e il leader stesso, che, signori, l'ho sempre detto, a due effetti semplicemente illegali. Infatti se da una parte c'è la riduzione di una singola unità a livello di costo per un carattere avversario, se si sferrerà un attacco con il cane rosso, dall'altra il togliere pescate morte, avendo la possibilità di ripeterle all'occorrenza, ha reso Akainu un'arma, e i diversi piazzamenti plebiscitari nei tornei europeo e mondiale ne sono stati la prova più che lampante. Ma quindi, Arconte, Sakazuki non potrà più essere giocato? No. E sì. In che senso? Dopo gli aggiornamenti della Band, la Bandai ha annunciato anche che ci sarebbe stata una rivisitazione dell'effetto devastante del leader in questione, che avrebbe comunque mantenuto il suo valore di forza e salute, ma con un'abilità del tutto rinnovata. Infatti il nuovo aspetto del Gran Ammiraglio vi permetterà nella vostra fase principale, una sola volta per turno, di scartare una carta dalla mano con tratto Navy per abbassare di una singola unità il valore di costo di un carattere avversario. In più, a far compagnia ai due elementi appena menzionati, ci sarà anche la prima carta in assoluto presente in OP-06, che ha già fatto intendere di essere fatale, soprattutto se messa al servizio di chi gioca al giallo. Si tratta di Reject, l'evento a supporto dei mazzi di Kadakuri e in primis di Enel, che nella propria fase principale spendendo 4 don, vi avrebbe permesso o di distruggere un carattere avversario con costo pari a 5 o inferiore, o di far prendere al rivale una carta dalla propria pila delle vite, facendo lo stesso a vostra volta. La presenza di un trigger, inoltre, vi avrebbe consentito di pescare una carta dal deck. Davvero molto forte, soprattutto se giocata in 4x e in fase di chiusura di un incontro, dato che solamente la sua seconda scelta avrebbe potuto ribaltare molte situazioni di un match, rendendo il giallo, e nello specifico l'elettrico, molto più forte di quel che già è. Ovviamente non sono mancate le critiche per questa scelta, che hanno visto due fronti ben distinti darsi battaglia verbale. Chi appoggia a pieno questa decisione, decretando che la fine del saca sia una ventata di ossigeno atto a far respirare il meta, e chi invece si è scagliato contro la band, accusando la casa madre di essere una decchicida, agendo drasticamente alla fonte, proprio come è stato per barba, tempo addietro. Ma nonostante ciò, oramai, il dado è tratto. A partire dal mese prossimo in Oriente, questa nuova band sarà operativa, e chissà se seguiremo le loro orme anche qui in Occidente. Dovremo aspettare un comunicato ufficiale da parte della casa madre in merito, anche se, ve lo dico con tutta franchezza, per il buon 99% dei casi sarà così. Il tutto verrà unificato senza fare distinzioni. Prima di concludere, volevo rispondere attraverso questo contenuto alle domande che mi sono state poste sui diversi social. Mi conviene vendere tutto il deck di Sagazuki? La risposta è doppia. No, per una motivazione di ritorno nei meta futuri. Avete presente barba e compagnia? Bene. Proprio come per Marco Costo 4 e 5, le Radical e via dicendo, anche l'Air Option ora avrà un calo di prezzo, ma questo non vuol dire che non potrà tornare a salire in un eventuale tier che la vedrà di nuovo protagonista. D'altro canto c'è invece il fate come vi sentite. Personalmente però non venderei nulla, tenete tutto ormeggiato in porto in attesa di tempi migliori, ma come dico sempre, questi sono solo consigli, l'ultima scelta spetterà sempre ed unicamente a voi. Ed ancora scamparsela è la mamma, che non demorde riuscendo ogni volta a farla franca, ma essendo comunque un costo 10, con un effetto devastante siamo d'accordo, che deve essere però impiegata in una determinata situazione di tranquillità per il bocca larga, non vedo come Lin Lin possa danneggiare il meta. Soprattutto perché da quando sono arrivati Enel e Saka, questo leader ha letteralmente lasciato il posto a loro, presentandosi di rado tra le posizioni alte di un evento che conta per davvero. E voi siete d'accordo con questa band? E come avete preso la notizia del cambio di veste del grande ammiraglio? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Inoltre, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram e TikTok se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo.